non sarà a neve a spezzare un'opera a ve San Antonio Mauro e le ultime edizioni non sono state molto bene perché questa volta ce la metterai tutta? ce la metterò tutta a finire l'anno prossimo cercheremo di fare qualcosina in più dai vai Mauro sei forte ok vai e anche la collega che è sempre Mauro poi vengono una pezzolice e poi ho zotti a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.